Ciao bravi! E ciao belli! Io sono Vitto! E io sono Ellie! E oggi inizieremo la nostra caccia all'intruso! VittoFamily, qualcuno è entrato in casa nostra e ha rubato la maglietta preferita di Vera! Questa qui, la maglia dei me contro te! Giusto Vera? Sì, era la mia maglietta preferita e qualcuno l'ha rubata! Non so chi sia! Noi siamo dei grandi fan dei me contro te! E la maglietta adesso è persa! E noi oggi VittoFamily la troveremo insieme a voi! Dobbiamo capire chi l'ha rubata e soprattutto dove si trova! E infatti noi abbiamo delle ipotesi! Chi è il signor misterioso che ha rubato la maglietta di Vera? Guardate qua! Abbiamo tutti quanti gli indagati! Secondo voi VittoFamily chi è questo signor misterioso? Chi potrebbe essere secondo voi? Potrebbe essere un uomo! Questo è molto possibile perché l'unica persona che può prendere una maglietta appunto è un uomo! Una persona dotata di mani e articolazioni per prenderla e portarsela poi a casa! Quindi credo proprio che per me è questa! Secondo voi chi è stato? Ellie secondo te chi è questo signor misterioso? Beh secondo me non è un uomo! Perché un uomo è troppo grande e non poteva entrare in casa nostra senza essere visto! Mentre io credo proprio che sia un gatto! E un gatto sarebbe stato facilissimo entrare! Magari mentre aprivamo la porta che stavamo pulendo il tappetino per le scarpe e... Quindi secondo te è stato un gatto? In effetti potrebbe anche essere stato un gatto! Perché i gatti sono super furtivi e non si sentono proprio! Dire se fosse entrato un gatto in casa Vera se ne sarebbe accorta! Vera! Per caso hai sentito l'odore di un gatto in questi giorni? Io non ho allusato nessun gatto in questi giorni! Anche se però ogni tanto sento l'odore di qualcosa di strano! Ma non vedo peli di gatto in giro! Sì non ci sono peli di gatto Ellie mi dispiace! Se ci fosse entrato un gatto ci sarebbero peli da tutte quante le parti! VittoFamily secondo voi è stato un gatto a rubare la maglia di Vera? Nah secondo me no! E qua arriviamo al terzo sospettato! Chi è l'unica cosa o essere che può entrare in casa senza essere visto e senza essere sentito da nessuno? Ebbene ragazzi non riesco nemmeno a dirlo ma secondo me potrebbe anche essere stato un fantasma! Guardatelo potrebbe essere stato un fantasma che si è intrupolato in casa attraverso le pareti! Sarà sbucato per di qui avrà preso la maglia di Vera e l'avrà portata chissà dove lontana da qualche parte! C'è un fantasma! Questo fantasma è ancora qui in casa! Io non ne ho mai visto uno di fantasmi quindi non lo so io spero che non lo sia! Ma deve essere qualcosa di reale! I fantasmi non esistono! Fantasma? Fantasma? Dove sono i fantasmi? Dove sono i fantasmi? Dove sono i fantasmi? Vitto 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 dove sono? Non lo so vera non lo so dove sono i fantasmi? Vitto family secondo voi è stato un fantasma a rubare la maglietta di Vera? Io spero proprio di no! Mi sento osservata! Aiuto! Anche io sono arrivato Vera! Secondo me non è stato un fantasma! Secondo te che è stato? Non lo so! Un fantasma! Anche Ellie pensa che sia stato un fantasma! Ellie pure lo sta dicendo! Ellie tu non stai dicendo niente! Perché secondo me pure per te è stato un fantasma! Solo che sei spaventata e non riesci a dirlo! Secondo me non è affatto stato un fantasma! Te l'avevo detto! O un gatto! Oppure una spia segreta! O una di quelle spie vestite tutte di nero! Con gli occhiali e un cappello scuro! Che fanno così! Tora! Vera! Tu che ne pensi? Ah! Io lo so! Io lo so! Secondo me chi è il signor misterioso! Lo so io chi è ragazzi! Allora ascoltatemi tutti i quarti! Venitevi qua! Sedetemi! 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 Allora! Secondo me il signor misterioso! Udrite! Udrite! Eeeeee! Secondo me è giù! Vera! Vera! Ma che scrimpo! Mi è sporcato di buco! Ehm! Scusate! Ritenevo di dire per me il signor misterioso è un pezzo di formaggio! Vera! Ma che cavolo stai dicendo? Vera! 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 Non può essere un pezzo di formaggio! Come diavolo fa il formaggio a camminare per la casa a prendere la maglietta e portarsela via? E dove la metteva? Nel frigorifero! Vitto Family! Secondo voi credete a Vera il signor misterioso è un pezzo di formaggio? Ma quando mai? E poi Vera dove sono le prove? Sì! Ho trovato un pezzo di formaggio qui dietro il cuscino! Che cosa Vera? Ma che stai dicendo? È qua dietro! Guarda Vittorio! L'ho trovato! Cosa Vera? Oh mamma è vero! C'è un pezzo di formaggio qui! Oh mammina! Guarda! E poi c'è una seconda domanda! La più importante delle domande! Vitto Family sapete qual è? Questa qui! Dove si trova la maglia di Vera? La maglia di Vera dove si può trovare? Beh si può trovare sia in città dispersa da qualche parte! Chissà dove l'avrà portata il signor misterioso! Oppure potrebbe trovarsi qui in casa! Adesso qui da qualche parte! Beh se è così allora dobbiamo metterci subito a cercarla! Però la casa è gigante! Dove sarà? Dobbiamo metterci subito a cercare qui in casa per riuscire a trovarla! Esatto! Perché la Vitto Family! Perché la Vitto Family non ha paura di nessuno e riuscirà a risolvere anche questo caso! Grazie a voi! Quindi Vitto Family secondo voi dove si può trovare la maglietta? In casa? O forse è dispersa chissà dove? E chi è stato a rubarla? Un gatto? Un pezzo di formaggio? Un uomo misterioso? O un fantasma? No non può essere il fantasma! Ah! Cosa va? Chi? C'è il fantasma! Ai pari! Ah Ellie ci crede nei fantasmi! Ellie crede nei fantasmi! Ellie crede nei fantasmi! Ellie crede nei fantasmi! Non è vero! Non è assolutamente vero caro Vitto! Ellie cosa stai facendo? Sto sorvegliando la cucina! Nessun fantasma deve rubare i miei cioccolatini preferiti! Che cosa odono le orecchie di Vitto? Ellie che dice che esiste il fantasma! Quindi Ellie crede nei fantasmi! In realtà io intendevo se mai esistesse un fantasma che ha rubato la maglietta di Vera non deve rubare i miei cioccolati! Non li ruberà il fantasma! Li ruberò io! Ma prima dobbiamo trovare la maglia di Vera! Vera domanda! Tu l'ultima volta che hai visto la maglietta dov'era? Sarebbe utile saperlo! Allora l'ultima volta che ho visto la mia maglietta è stata... Vediamo un poco... Ecco allora fatti mi pensare è stato prima o dopo che ho fatto la pappa? No è stata dopo! Prima della doccia forse sì! Mi sa che era la doccia! Poi ho fatto la pipì! E poi ho fatto la popò! E poi dopo sono tornata e la moglie era... Vera! Non ci interessa sapere tutto quello che hai fatto prima di vedere la tua maglia per l'ultima volta! Dicci solo dov'era! Era proprio qui! Era qui la maglietta sopra il divano! Esatto! In mezzo a questi cuscini! Dopodiché è scomparsa nel nulla! Ah ah! Adesso abbiamo un grandissimo indizio! Vera ce lo potevi dire prima però eh! Quindi cerchiamo sul divano e vediamo se c'è un indizio! Vedi Vera! Io non vi ho indizi da plevarti! Ehm... Ma Vera il divano è qui! Ah è giusto scusami! Forza! Togliamo tutti i cuscini! Ok! Scuola di scuola di... Scuola di... Cosa c'è? Oh ma vabbè no distruggere il divano però Andy! C'è qualcosa! C'è qualcosa? Sì! Ellie dove vai? Il divano lo so risucchiato Ellie! Aiuto! Qualcosa mi sta spiacciando! Il divano è vivo! Il divano è vivo! Aiutatemi ragazzi! Ehm... Sono bloccata ragazzi! Ti faccio il solletico ai piedi! No! Solletico ai piedi! Solletico ai piedi! Beh comunque qui non c'è niente! Quella era solo l'ombra del sedere di Vera! Ehi aspettate un atto! Che cos'è questo? Ragazzi guardate cosa ho trovato! Che cosa? Ma da dove è spuntato fuori questo? Prima non c'era! Non lo so! C'è un puttito interrogativo rosso! Sembrano gocce di sangue che scendono! Vera! Tu questo ne hai mai visto questo foglio? Ehm ecco no! Mamma mia ma che puzza! Che puzza di formaggio! Aspetta un attimo! È stato un uomo formaggio! E come dico io è stato lui! Vera non è stato nessun uomo formaggio! Anche se... In effetti puzza di formaggio questa lettera! Ma che cosa c'è scritto qua dentro? Vera! Ellie! La apriamo e vediamo cosa c'è scritto! Che dite? Certo che dobbiamo aprirla! Anzi immediatamente dobbiamo assolutamente scoprire cosa c'è scritto in quella lettera! Per sapere dov'è la maglietta di Vera! Prigami! Magari qua dentro c'è un indizio e che ci dirà chi è questo signor misterioso! Ok! Apriamo la lettera! VittoFamily! Volete sapere anche voi che cosa c'è scritto nella lettera misteriosa? Per saperlo cliccate sulla faccia di Vera che è comparsa qui! Cliccate sulla faccia di Vera qua vicino! Questa qua bellissima donna! Cliccate e iscrivetevi! Iscrivetevi e attivate la campanellina per sapere che cosa c'è scritto nella lettera! Io sono Vitto! E io sono Ellie! E ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao!